Messi, 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 immens Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, 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 ragazzi iniziamo la nostra settimana videoludica nuovo video stesso gioco siamo sempre sul pezzo con i football 2024 se vi fa piacere come sempre rimanete sintonizzati sul canale perché tra poco si comincia nuovo modulo prenderemo il nostro scarsenal e ritorniamo a giocarci le divisioni che quattro giorni che non gioco il campionato mi sto massacrando di amichevoli con gente fotonica quindi vediamo se abbiamo imparato qualcosina ad andare a imparare l'arte e metterla da parte prima di partire però come sempre regà il dovere chiama ringraziare e salutare tutti i bezzazzi che interagiscono con la mia passione passano sul canale si guardano i miei video e me li commentano e i saluti vanno a... allora sezione commenti già aperta mi sono portato avanti per rendere il video più scorrevole possibile quindi salutiamo il buon Milazzo Giuseppe poi il buon Fili tutti i ragazzuoli che hanno commentato il mio ultimo video quello della golle skill compilation fotonica poi i saluti vanno Eugenio Longobardi il mio Ultrasill Brothers Alessandro Gamer se sei nuovo e non lo conosci altro ragazzuolo e con la passione per i football con un canale attivo se ti piace dagli un'occhiata iscrizione e campanella attiva per supportarlo poi salutiamo buon figlio immobiliare per gli amici il forfane del Sium ariei85 ragazzuolo che ci interagisco tutti i giorni sul mio gruppo telegram gruppo telegram che troverai nella descrizione del video se ti vuoi unire a noi sei il benvenuto salutiamo Robè Roberto Cusanno Simo Rosso Nero Piscuetto Ucumpari Saverio Zazzacosta Luca Ciel Enrico Panzan Frank76DJ ancora buon figlio immobiliare sempre presente Lucchino Celli Francesco Boncuni il buon Fra Smicky Land Peppe Gamer questo user il buon Iari direttamente dalla Roma che giocava a Pesce oggi giocai football grandissimo Iari speriamo che ritorni allora basta regà grandissimi togliamo wifi per i saluti è tutto siete pronti? l'attenza è finita si comincia campionato di team vamos olebedazzi niente bonus di accesso giornaliero perché come anticipato nell'intro mi sono già andato a fare amichevoli fotoniche con il socio Ufrat il buon Simo Play e un ragazzuolo il buon Ale Interman allora il modulo arriva proprio da lui l'ho testato per adesso una partita soltanto con il socio girava meglio di quello che avevo prima adesso lo andiamo a testare nel campionato Dream Team prima di partire però c'è da andare da lui dall'idolo delle folle sblocchiamo il ricordo e i pessari castolo dagli 11 metri parte lui lo buttiamo dentro o me lo facciamo o ce lo facciamo parare lo buttiamo dentro spiazza lui non sbaglia ok a fine a fine gira arriva Diego regà non vedo l'ora di provarlo andiamo a 21 rimanenti esattamente allora vi condivido il modulo se state buttando giù tutti i santi ma prima di partire regà cioè prima di partire caffettino e sigarettino perché se no non siamo noi ok allora modulo fotonico secondo me regà modulo fotonico schema di gioco lo Scarsenal martedì 19 marzo si presenta così quella versione nuova di Virgil van Dijk devastante regà devastante poi gioco con i due torsini difensivi senza istruzioni individuali liberi di cpu a fianco a Virgil sviluppo Maldini incontrista sempre lui inamovibile direttamente dalla Spagna che giocava al calcio Iker Casillas tra i pali davanti due mediani il mediano collante e il mediano incontrista non impostato Cicci Cicci lo va a fare il tra le linee il buon Frank De Jong quello nuovo che presi nel video precedente avanzato cioè i piedi buoni per servire i tre lì davanti il trio delle meraviglie Neymar ha impostato SP dietro a creare il gioca bonito davanti Messi taglio al centro impostato punta e Vinicius perché è schillato ci si può mettere Mbappé secondo tempo ovviamente ovviamente entrerà il Sium le istruzioni individuali sono difensivo al mediano collante e il contropiede e il contropiede sulle punte tattica secondaria io l'ho impostata così da switchare in game invece dei due terzini mi stringo in difesa con tre difensori centrali il mediano che forse non gli ho dato l'istruzione individuale non gliel'ho data vedete il difensivo al mediano e il contropiede a sto giro lo diamo a Neymar e a Vinicius c'era già Vinicius? no ce l'ha Messi Vinicius ok rega proviamo andiamo non ho più giocato vediamo se riusciamo ad andare in seconda riscattiamo tutto kill che è nostro ok sto registrando sto registrando vamos l'attesa è finita si comincia primo sfidante di giornata andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire di notte 5 tacche di pomeriggio non è mai più 5 tacche quindi mi aspetto le 4 tacche rega andiamo 1480 punti vittoria potrebbe significare promozione vittoria potrebbe significare promozione in seconda divisione vediamo chi sarà il nostro primo sfidante 4 tacche per sfizio provo il secondo matchmaking da sculare da vedere se sculiamo le 5 tacche perché è un altro gameplay con 5 tacche andiamo ma mi da 4 tacche rega me lo sento esattamente esattamente 4 tacche che ovviamente accettiamo allora pibe pibbe de bari 86 attuale terza anche lui gioca in casa e quindi ad adesso a sinistra scarsenal spaccate di like fate sentire il calore al vostro scarsenal nera bianca come di consuetudine va bene così schema di gioco ok vinicius in forma di grazia militao militao sta come virgil start a virgil il sium il sium sta bene il sium sta bene lui si presenta così ok contrattacco tutto chiuso per vie centrali sulla carta è un pelino più forte anche di noi va bene andiamo rega vediamo se gira noi siamo pronti l'attesa è finita si comincia vamos si parte takabasa kickoff partito ma cattivo attenzione messi lo manda subito al bar si mette in proprio esagero esagero va bene va bene va bene gira però gira subito attenzione avversario fortissimo rega andata bene siamo un'attacca madonna mi è andata bene fortissimo attaccato subito forte sale in cattedra subito c'è da tribulare subito c'è da tribulare ritorno quattro giorni dopo c'è già da impazzire va bene vai Ale provaci tutta di là dove c'è Patrick partito partito nei mari angolo angolo non la tiene non la tiene non la tiene nostra attenzione al pibe de bari regà attenzione al pibe de bari che sa il fatto suo poi andiamo a vedere dove militava subito l'angolo rimane lì a rimorchio arriva ma tira di prima costo sensazionale occhio adesso Maldini al posto giusto bravo Frankie partito Messi tagliamela no rimballo sfavore non uscire Paolo rimballo sfavorevole ancora Virgil è messo al posto giusto così subito Messi taglia Neymar frizzato salta zio non ce la fa contro Gullit tieni Gullit occhio che taglia bravo via con quadrato eh Dio zio molla la sta corsa le forte 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 ex prima divisione sicuro è chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori più alti è che lo riswitcha si salta ce la facciamo tutto chiuso tutto chiuso rimpalli vai 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 che non lo prendiamo vai che non lo prendiamo tieni la Gilberto doppia attacca giù regà doppia attacca giù che sale in cattedra adesso eh bravo tutta Messi buona Vinicius Neymar bellissima rientra fallo arbitro non fischia non fischia va bene gioca 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 occhio che rientra eh la messa è forte regà si è visto subito ci mette subito lo zampino contro Konami va bene lo stesso l'importante è che gira che si riesce a giocare rimpallo attenzione rimpalli no è così però chiude tutte le linee non uscire zio bravo bella così non mi ha preso il Fainess non me l'ha preto oh donna mia torniamo equilibrati Francky amministra è passaggio di merda di Gilberto è passato e dai però Paolino ma non puoi farla andare via così si che è Rummenig regà è sgravatissimo 2-0 partita no del nostro Scarsena vediamo se adesso inizia a girare qualcosa dopo il 2-0 lui chiude tutto regà è fotonico inventa calcio Messi Maldini il suo che dice non si passa doppia attacca giù con contrattacco adesso diventa un'impresa palla piena palla piena adesso diventa un'impresa regà ma se gira così facciamo anche la seconda guardate guardate il mio modulo come cazzo è piazzato dietro tutto in linea no 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 era per Francky cos'è? ancora fallo gira male a noi gira male schiacci X prende fallo occhio dal limite adesso occhio dal limite adesso ho lo schema la battuta di prima Gullit c'è i piedi buoni switch A a Pirlo che c'è gli ancora più buoni sul primo o lo chiamiamo? lo chiamiamo regà no attenzione è uno schema regà è uno schema avversario forte avversario che fa il fatto suo regà sguscia eh sì 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 massa male 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 eh non vinco un rimpal salta Maldini non salta neanche lo zio cioè Maldini non salta Maldini è il più forte del ciò se non mi aiuta lui che cazzo mi aiuta è partito è partito si mette in proprio l'appoggio sì accorcia le distanze Vinicius Delicius Messi vola esce col cerchio forte regà dietro sicurezza alza una tacca nel frattempo vai largo così tutta di qua dove c'è Neiman e mi dà luce va bene bella lì partito Vinicius vai Vinicius Patrick zio buona Frankie allargati qua eh bravo 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 no volevo Messi esce col cerchio salfatto suo vai 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 va bene 2-1 lo scarse non è ancora vivo secondo tempo c'è solo una squadra in campo eh l'elassico che entra benicius è ancora tutto chiuso tutto chiuso sicurezza sicurezza vai dietro lunga nel frattempo switchiamo la secondaria difensivo che è uscito che forte che forte che forte che forte che forte franchi franchi porco dio franchi ce li ha i piedi buoni buona 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 allora va in difficoltà col dribbling di Levet il brothers paolo salta buona non lì non lì non lì ragiona cazzo occhio esce a cannone così ma Virgil ma che cazzo di passaggio è subito eh dio santissimo però ma che l'ha fatta la minchiata la tenuta eh no è sua ne esce ne esce così ne esce miracolo in mano alla rega non passa rigore rigore non l'ha fischiato occhio supercancel tagliala spacca la difesa in due raga deve rientrare sul destro non va sul fondo la mette in mezzo è fortissimo raga è fortissimo gioca più di noi di sicuro noi stiamo iniziando a giocare seriamente adesso r2 molla lo sto cazzo di r2 di r2 di r2 l'è finis yes vamos 3 a 2 no 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 ste porcate no ste porcate difensive mettici una pezza virgi vinicius porca puttana l'ho visto in linea rega ho detto gliela pareggio ho detto gliela pareggio allora entra i sium raga entra i sium fuori vinicius si fuori vinicius messi non lo tolgo è fotonico raga appena fatto un goal in finest shot della madonna lui scuola è fotonico non cambia niente c'è da stare attenti eh poi vabbè se perdiamo ah l'importante è che si riesce a giocare non mi faccio del nervoso allora l'avversario sta ancora in pausa rega combina qualcosa oppure non combina niente vedo sempre uguale è impossibile è una tattica secondaria rega crew fcc 71 di over ormai nella vita vediamo se rientriamo si no è una tattica secondaria avversario che sa il fatto suo rega si vede subito quando uno è in prima divisione subito quando sa il fatto suo allora tutto pronto si riparte torniamo equilibrato mettiti davanti cancela buona ma non lì ma non lì ma non lì buco rientra capisce tutto virgile non riesco non riesco tienilo virgile porca puttana vince tutti i rimpagli eh però attenzione Romano vai Patrick fai capire chi comanda cazzo bravissimo tempo reggia eh potrebbe essere anche un top 1000 se mi dai Frankie oh vola tutta di là bellissima Frankie niente dai non è va bene lo stesso va bene lo stesso Frankie che ci prova va bene va bene però allora togliamo Frankie e mettiamo il giocatore chiave impostato trequartista da creare superiorità numerica avanziamo Neymar allarghiamolo vediamo così se la spuntiamo regà sono curioso di vedere dove milita doppia doppia attacca bassa adesso cerca di difendere il 3 a 2 il brothers ci sta salta paulino zio occhio partito è entrato e me li cambia me l'ha cambiato in automatico di levetta avversario fortissimo regà avversario fortissimo buon pibe de bari provaci Ale arca puttana regà pure l'L2 fotonico sa usare eh sì però vai no 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 impazzito 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 il gamer regà Billingham ma to ma to all'89 mi bruciano gli occhi con sta cazzo di lampada allora partita promozione di quelle fotoniche sfuma la promozione in seconda divisione solo rimandata regà è solo rimandata ci proviamo a pareggiargliela finesse finesse porca puttana non me l'ha tirato non ha tirato se ne era golle regà non l'aveva chiamato il portiere finisce così allora andiamo a vedere l'avversario fotonico dove militava vittoria meritata ha giocato meglio lui regà io devo tornare a rigiocare allora 1050 ci toglie 29 punti ci toglie 29 punti top 1000 top 5000 non ha senso di esistere una roba del genere regà va bene si vede che non tra iarda si romperà il cazzo e molla prima allora andiamo al secondo sfidante di giornata e poi chiudiamo il video pazzesco top 5000 che gioca meglio di tanti top 1000 allora sigaretta dove l'ho messo qua ce l'ho o è scarico ce l'ho vediamo chi sarà il nostro secondo studente di giornata 4 tac e niente più serve dedicato per il vostro alebenio 86 gira un po' così 5 tac e gira meglio però speriamo che sia come questa allora questo metahan sta a vedere che non è italiano e gira una merda però siamo in casa e quindi è dalla sinistra a destra allora così è lui giallo continuo con sto modulo che non è il modulo ci devo ancora fare l'intesa ci ho giocato solo due partite fammi prendere l'intesa quanto ha di finalizzazione frankie perché vedo che arriva molte volte a ridosso dell'aria eh 64 per quello me la tira a troie regà per quello non azzecca la porta 64 di finalizzazione c'ha i piedi buoni per impostare ma non va bene non va bene proviamo a fare una cosa lui che c'ha i piedi buoni comunque finalizzazione dov'è finalizzazione 78 pedrito c'ha un po' i piedi un po' meno buoni è skillato lo stesso proviamo a fare un accorgimento tattico proviamo a fare un accorgimento tattico a mettere cc pedri regista creativo che se arriva lì a ridosso dell'aria c'ha più finalizzazione tiro a giro quanto c'ha dove cazzo è il tiro a giro regà non lo vedo tiro a giro 80 tiro a giro dove cazzo è calcio a tiro a giro eh siamo lì più o meno 79 l'avversario si presenta ok modula la portata adesso siamo un pelino più forti di noi sulla carta ma la carta lascia il tempo che trova regà vamos e vengono di recuperare i punti che poi stanotte che gira meglio cerco di qualificarmi al secondo round degli football open della championship open si parte regà buona visione pedrito subito pedrito va bene pedrito girava meglio la partita di prima va bene lo stesso dai l'atmosfera è proprio quella delle grandi serate c'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica ricca tua ok messica non ci arriva se mi dai maldini prova a chiudere eh dio regà sti ritardi di merda sti ritardi di merda non mi da via niente è ingiocabile questo è ingiocabile poco diaz porca puttana speriamo che si stabilizza fallo speriamo che si stabilizza regà ma non ha senso di esistere una roba del genere nel 2024 una partita fluida una partita che va una merda salta Leo eh non riesco a switchare non riesco a switchare c'è ritardo nello switching e quindi è un dito in culo regà bene Mark come cazzo fai a farti anticipare che c'hai 100 di accelerazione Maldini eh dopo quel microsecondo dopo regà non lì non lì qua ha sbagliato via esci miracolo via salta Vinicius non salta ma porca puttana Vinicius di merda che non l'ha presa eh se mi dai lo zio via vai Pedri sta a vedere Pedri di testa no è possibile Pedri metto un fagiolo il ragazzo però c'è i piedi buoni è partito in mezzo bravo di qua così usciamo benissimo viene giù forte lo Scarsenal viene giù fortissimo lo Scarsenal vamos regà questo è un contropiede fotonico vamos diventa difficile difendere con il ritardo difficilissimo non difficile allora l'avversario va in pausa cosa fa? non fa niente oh secondo me sta spopolando nella community che se vai in pausa attiri lo script a favore ma cioè ma ci rendiamo conto? cosa ha fatto questo che è andato in pausa? niente non ha fatto un cazzo allora 17 minuti per reggis qui sto per riavvio allora andiamo anche l'avversario è pronto tacca bassa sovrapposizione gioca largo adesso gioca largo se mi dà il Gilberto poi va a chiudere la trick beh sì eh sono fermi raga usciamo bene però madonna dammela di prima nel buco di prima di prima non riesco a giocare di prima ma dai Neymar no Messi era che Neymar spazza mettiti davanti si mette dietro Gilberto chiudi eh lui riesce lui riesce lui riesce a giocare di prima ma vai pedrito sei grande no 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 riesco a giocare di prima raga devo essere proprio velocissimo devo essere proprio velocissimo vai lasciali tutte e due lì Messi voi porco Dio così fotonico madonna raga cosa ha fatto Messi si mette in proprio ancora Messi ancora Messi ancora Messi eh gioco con le doppie tacche giù mi devo difendere raga Billy 34 manca una vita vai partito mandano al bar sì ancora sì ah Pedri le leve corte del buon Pedrito occhio le occhio la sovrapposizione Paolino capisce tutto Paolino capisce tutto eh via quadrato dai la scaglia il più lontano possibile ferma l'azione avversario e fa ripartire suo subito di prima non lì volevo Gilberto Patrick si fa perdonare tutta di là Pedrito sì Pedrito eh sì subito morca puttana ampestata Pedri chiudilo 42 Gilberto va sul fondo la tiene la tiene occhio in mezzo Pedrito miracolo no che li hanno lasciata lì tienila lì tienila lì vai più lontano possibile un minuto dovrebbe fischiare dar rinvio no non fischio occhio a contropiede adesso si è frizzato fotonico Vinicius allora faccio questo e stacco dai noi stiamo però non tocchiamo niente lasciamo tutto così mi sa che Pedri soffia Pedri soffia il posto al buon Frankie mi sa proprio di sì ok lui non tocca niente andiamo come sta Militao sta normale andiamo secondo tempo tacca bassa kickoff tra un po' li alziamo tra un po' li alziamo perché sennò ci facciamo uccidere mettite davanti bravo Virgil è messo malissimo col corpo bravo Virgil eh no dalla Messi chi è questo cattivissimo che cazza ha fatto a passare Pedri bravissimo Pedrito Pedri mamma mia Pedrito tutta subito rientra mandalo al bar incrociala mio dio mio dio Neymar col mancino non va alziamo un attack stai davanti stai davanti paolino stai davanti buona paolo appoggiati così dietro vai no bravo bravo occhio Bergomi è tuo bravo Patrick Patrick partito come ha fatto come ha fatto niente la deve tenere lui va bene così va bene così alzala buona fantasia al potere di Pedrito che esagera Pedrito si si Pedrito soffia il posto al buon Frank Sio sovra posizione tienilo bravo Gilberto è passato lo stesso tutto chiuso via ma fanculo via ho tre nani provaci Neymar va bene vai Vinicius Pedri Neymar non ti fermare non ti fermare fermati adesso è forte questo chi cazzo è tutta di là Messi scappa annulla annulla mandano al bar così doppio tocco uuuu fantasia al potere non entra rega Pedri appoggiati buona Pedri e vada Messi bellissima non uscire contro il piede fotonico ma c'è lo zio che in sicurezza va da Iker 70 sul cronometro 20 più recupero 2-0 Scarsena adesso può salire un po' di entusiasmo Paolino esce lo Scarsena c'è Neymar si fa vedere subito per Messi 1-2 con Vinicius dagliela bene Vinicius adesso lo tolgo mettiamo il Sium rega occhio Billy Iker in mano al miracolo salva tutto Iker al 74esimo è il momento del Sium rega è il momento del Sium Iker compie il miracolo entro Sium poi 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 niente poi niente lasciamo così anzi sai che facciamo freschezza più veloce più rapidità meditao per Virgil andiamo fatica a difendere madonna madonna lui non è pronto accorgimenti tattici anche per il Brothers no 70 16 più recupero rega 16 più recupero poi magari questo qui è più forte dell'altro è sulla carta perché sto gioco è così occhio non farò girare esci Kree bravo Kree pedi 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 è che è nostra allora nulla ordinati dal fondo il Sium adesso è a sinistra con questo nuovo modulo fammi la sponda tienimola su Kree tienimola su Kree stai davanti Kree appoggiati buona Kree è caduto pedi però alla meglio allarga Ronaldo ma perché scappano oh ma avete visto che cazzo è successo guarda Messi subito bellissima tensione Neymar che viene giù forte si rega si rega si rega 3 a 0 Skarsenal vamos non dico è chiusa perché sto gioco l'ha fatto il demonio però forse Quitta Quitta ok rega l'avversario Quitta per curiosità personale andiamo a vedere dove militava c'era più forte o meno forte del penultimo avversario ci prendiamo 3 punti ne guadagniamo altri 35 ok l'avversario militava in l'altro 5000 questo 8000 tutti ex prima divisione comunque ormai livello fotonico ok io direi che per oggi può bastare così stasera stasera che gira meglio rega mi gira meglio vado a farmi l'ultimo evento questo qui devo fare 3 vittorie 3 vittorie in 5 partite questo qua 9 punti in 5 partite ci proviamo rispetto di tutti e paura di nessuno bedazzo se sei arrivato fino a questo punto del video il tuo alle bene ti ringrazia ti saluta il video giunge al termine ci rivediamo alla prossima con un nuovo contenuto sui football ciao bedazzo